Sanità, la replica dei sindaci, prosegue il botta e risposta col Presidente della Regione Vendola sul piano di riordino ospedaliero. Sul riordino ospedaliero i sindaci replicano le dichiarazioni di Vendola. Nel corso della seduta del Consiglio regionale di Ancipuglia dura presa di posizione dei primi cittadini che svestendosi della loro appartenenza politica hanno stigmatizzato il comportamento della Regione Puglia che ha proceduto alla chiusura degli ospedali senza varare un reale piano di proposte alternative. L'Anci ha ribadito che la Regione e le direzioni aziendali hanno impedito la partecipazione obbligatoria per legge dei comuni e dell'Anci stessa nei processi di programmazione sanitaria. Anche la conferenza permanente regionale non è costituita in quanto la Regione non ha provveduto alle designazioni di sua competenza. I sindaci vogliono il ruolo che li compete, che la legge glielo dà. Voglio dire, non è possibile che un sindaco possa acquisire notizie attraverso la stampa. Ci sono delle regole che vanno rispettate. C'era un'intesa con la Regione, i sindaci sono stati responsabili per il piano di rientro. Nell'ambito della rete ospedaliera va tutto concordato nelle conferenze dei sindaci. I comuni e l'Anci non sono contro la riqualificazione e il riequilibrio dei conti del servizio sanitario pugliese, ci tengono a precisare. Sono contro l'evidente incongruenza delle azioni programmate dalla Regione. L'Anci ribadisce che occorre apportare correzioni sostanziali al piano di riordino, in primo luogo allineando le politiche regionali al nuovo piano sanitario nazionale. In secondo luogo, costruendo una rete degli ospedali che garantisca il più alto livello di specializzazione e una rete di servizi territoriali che garantisca l'integrazione sociosanitaria, l'Associazione dei Comuni Pugliesi auspica infine che tutti i programmi di riqualificazione dei servizi siano sostenuti da congrue risorse per l'ammodernamento delle strutture e delle tecnologie. Sconvolge ancora una volta la posizione del Presidente Vendola che si pone in una posizione di contrapposizione con i sindaci. Sono costretto ancora una volta a smentire le sue declarazioni. Non è assolutamente vero che lui si è mai confrontato con i sindaci in ordine al piano di riordino ospedaliero. Io mi auguro che il Presidente comprenda che su questo tema ci deve essere condivisione. Quindi cominci a sedersi con noi intorno ad un tavolo e a condividere le scelte.